Bentornate amiche, bentornati amici a Check Up Obiettivo Salute terza stagione e diciamo immediatamente bentornato anche al dottor Paolo Perrella. Buonasera. Buonasera. Il dottor Paolo Perrella è stato già con noi nella seconda stagione di Check Up Obiettivo Salute e oggi avremo modo di conoscerlo un po' di più. Il dottor Paolo Perrella è specializzato in ginecologia, però adesso ci racconterà in 30 secondi perché ha deciso la ginecologia e non l'andrologia, dottore. La ginecologia, l'ostetricia la ginecologia perché poi è una doppia specialità perché io ho studiato a Bologna e avevo altri sette compagni di appartamento per cui gli uomini non ne volevo più sapere, infatti è stato un ricordo bello però insomma quando è finito insomma questa convivenza con otto uomini è stata abbastanza pesante. insomma ecco. E quindi il dottor Perrella poi è andato a Bologna, è di Fano, è panese, il dottor Perrella è andato a Dancona, scusate, si è specializzato a Dancona e ha deciso per questa specializzazione molto molto bella e interessante perché ovviamente riguarda oltre la metà della popolazione mondiale perché le donne sono più degli uomini, questo è un dato di fatto. La mia scelta è stata un pochino diciamo anche dovuta al fatto che è una specialità diciamo abbastanza ampia nel senso che ha una parte medica e anche una parte chirurgica. Io adesso logicamente seguo tutta la parte ostetica però mi occupo molto di chirurgia quindi e quindi diciamo il mio principale lavoro è la parte chirurgica diciamo. E poi c'è ovviamente anche una componente psicologica perché nel momento in cui le donne si rivolgono al dottor Perrella lo fanno perché hanno qualche problema di varia natura e c'è un momento nella vita che è quello che vogliamo affrontare oggi con più profondità, quello della menopausa nel quale effettivamente l'esistenza delle donne cambia. Dottore più o meno a che età si manifesta? Non è sempre uguale? Il discorso è molto ampio. La menopausa è il passaggio diciamo alla fine della fertilità di una donna, adesso la fertilità molte volte inizia un pochino prima e la fine delle mestruazioni. Diciamo che in generale come per anni si va dai 43-53 anni, questo diciamo nella media, poi purtroppo ci sono delle donne che vanno in menopausa prima, dei 43 anni quindi è una menopausa precoce e poi ci sono quelle che vanno oltre 53 che da un lato secondo me è una fortuna perché diciamo possono avere problemi un pochino più tardivamente. Poi c'è tutta la fase della premenopausa, è quella che mette in crisi le donne, per cui molte donne vengono a fare la visita perché magari sono anni che non si controllano e improvvisamente cominciano a avere queste mestrazioni irregolari, magari donne che hanno avuto mestrazioni irregolari tutta la vita e improvvisamente o hanno un salto di mestrazioni o hanno delle mestrazioni due volte al mese o anche delle emorragie, queste le manda un pochino in crisi e quindi le fa fare la visita che invece in realtà come screening dovrebbero fare tutti gli anni. Certo, anche perché prevenendo e rendendosi conto di quello che succede è anche meglio in quanto si minimizzano poi gli effetti della situazione che si va a vivere. Ma allora, i primi segni al di là delle mestruazioni che vengono meno, i primi segni che possono far dire una donna, oddio sta succedendo, quali sono? Allora, il segno purtroppo più frequente e per cui non c'è terapia, per cui molte vengono per questo motivo ma io dico, guarda, per questo non ti posso fare niente, è l'ingrassamento, cioè la donna aumenta di peso o perlomeno aumenta, ha un gonfiore addominale, pancia e fianchi che di solito non aveva e quindi per mantenere lo stesso peso deve sforzarsi di più oppure non ci riesce, quindi c'è un aumento di peso che può cominciare anche nella fase premenopausale, anche un paio di anni o tre anni prima di andare direttamente in menopausa, quindi questo è il primo sintomo che ti dicono tutti. Poi è logico, gli altri sintomi, diciamo, quando comincia la menopausa, la maggioranza qualche sintomo ce l'ha, però i principali sintomi sono le vampate di calore, le sudorazioni, non dormire la notte, secchezza vaginale, calo della libido e il nervosismo, quindi questi sono, diciamo, i principali sintomi che si hanno ma l'aumento del peso e il gonfiore sono quelle che le donne notano prima e per cui, diciamo, non si rendono conto perché ancora hanno le menstruazioni però notano questo cambiamento nel loro corpo. Quindi qui entra in gioco anche ovviamente la componente maschile che nel momento in cui la moglie, la compagna, la donna con cui si condivide la vita manifesta questi sintomi, ci vuole tanta pazienza e tanta capacità di comprensione. Sì, certo, perché magari per qualche uomo non è normale, però per la donna che ha carenza ormonale è invece normale avere proprio un calo della libido e quindi si possono creare anche alcuni, diciamo, problemi proprio nel rapporto, diciamo, coniugale perché per le donne è una cosa proprio che non sentono più proprio perché vengono a mancare gli ormoni, gli estrogeni che sono quelli che danno, appunto, alzano la libido e sono poi quelli che causano la carenza di estrogeni e causa poi tutti quegli altri sintomi di cui abbiamo parlato. Certo, e in questi casi è consigliabile fare qualcosa per assumere questi estrogeni? Perché ci sono diverse teorie in merito. Esatto, il problema che deve affrontare la donna è proprio questo, faccio la terapia, non faccio la terapia. Diciamo che di terapia esistono terapie naturali e terapie ormonali. Terapie naturali in qualche caso poi non è che hanno degli effetti, diciamo, importanti. La terapia ormonale di solito, diciamo, riporta quasi allo stato premenopausale. E qui vengono i dubbi delle donne perché poi vengono comunque consigliate anche da medici o da non medici su non farla, sul rischio che può dare questa terapia. Io personalmente la penso in questo modo qua, cioè nel senso che se una donna sta veramente male e soprattutto va in menopausa in un'età un pochino precoce, io la consiglio, cioè se sta veramente male. Cioè se la sua qualità di vita non è buona, io la consiglio, perché in realtà poi il rischio è tutto calcolato, diciamo, non sono farmaci che vengono dati così, sono farmaci studiati per la menopausa, qualcuno, diciamo, dovrebbe avere meno recettori sulla mammella, qualcuno addirittura contiene nel prodotto anche protettori della mammella, quindi non sono terapie date così senza un perché, diciamo. Quindi se la donna sta veramente male, la sua qualità di vita è bassa perché delle donne sudano, di notte non dormono, hanno un abbassamento dell'umore, cioè quando la cosa è pesante, secondo me le donne sbagliano. Poi c'è qualcuna che la continua eccessivamente anche over 55-60 e lì magari ci possiamo discutere, però il porsi negativamente con la terapia sostitutiva così a prescindere perché si è stato detto che è pericolosa, secondo me è sbagliato. Certo, quindi è comunque sempre un errore andare per partito preso. Ragioniamo con lo specialista e quindi lei sicuramente affronterà tantissime situazioni, anche perché col passare del tempo, con i tempi moderni, in generale io credo che gli effetti, fra virgolette negativi della menopausa siano sempre più combattuti dalle donne, perché comunque come anche noi tendiamo a mantenere il più possibile la gioventù, lei fuori onda, lei mi diceva poco fa che giocava a calcetto fino a poco tempo fa, c'è chi continua a farlo, quindi per dire, cioè siamo abbastanza, e questo vale anche per le donne. Certo, anche perché poi comunque andare in menopausa in maniera, cioè in un'età precoce, che può portare comunque anche a un pericolo di osteoporosi, quindi comunque è un discorso da fare a 360 gradi sulla tipologia di disturbo che ha, su quello che può fare anche, è logico che se una donna prende integratori, non ha particolari sintomi della menopausa, prende integratori naturali, poi fa ginnastica, magari ci può stare che si ferma anche, o non fa terapia, oppure fa una terapia naturale. Ci sono donne invece che per tempo, per possibilità non lo fanno, vanno magari in menopausa a 43, 44, 45 anni, ma non facendo la terapia ormonale e probabilmente potrebbero avere, diciamo, problemi un pochino più avanti. Adesso l'ostoporosi non è un problema enorme, però è uno dei problemi che si possono porre. Così come anche l'innalzamento della pressione, vero dottore? Esattamente, la menopausa stranamente aumenta, cioè aumenta il rischio di pressione alta e anche di problematiche cardiovascolari. La donna invece è preoccupata che sia la terapia sostitutiva che li può creare, invece assolutamente no. Quindi adesso non è che la terapia sostitutiva previene l'infarto, però comunque, diciamo, aiuta la donna a ridurre un pochino il rischio, diciamo. Quindi quello sì, la menopausa, diciamo, dà questo rischio in più anche alla donna. Facevo una riflessione. Noi siamo qui a Fisioradi Medical Center, che è una struttura che ospita tanti specialisti e questo fatto è sicuramente molto, molto positivo per affrontare i passaggi proprio della vita in termini trasversali, perché avere a disposizione lo specialista, il ginecologo, magari il nutrizionista, il cardiologo, l'endocrinologo, tutta questa serie di specialisti che possono affrontare la situazione a 360 gradi sicuramente aiuta. Certamente, noi avevamo fatto anche un altro incontro qui a Fisioradi qualche anno fa, anche sulle amenorree, su tutti questi problemi di disturbi metabolici. Quindi questo è un centro che ti offre comunque di poter avere gli specialisti, insomma, più adatti per tutti questi tipi di problemi. Insomma, ecco, Fisioradi è una garanzia per questo. Infatti c'è, è da sottolinearlo, mi è venuto spontaneo pensarlo proprio per il luogo nel quale siamo. Un'altra cosa interessante che io ho visto studiando un po', guardando il suo curriculum, lei è anche specialista, comunque lavora molto con la ginecologia estetica, che è una nuova branca, una nuova visione. Sicuramente fino a poco tempo fa poco si parlava di chirurgia, di ginecologia estetica, invece oggi sta cominciando a essere una pratica. Io, diciamo, mi sono così inoltrato anche in questo nuovo campo che è la medicina estetica, ma anche, soprattutto, la ginecologia estetica, perché, diciamo, aiuta, e qui rientriamo nel discorso della menopausa, la ginecologia estetica va a tamponare tutti quei problemi che possono avere le donne in menopausa, quelli di secchezza, di atrofia, distrofia, difficoltà nei rapporti. Quindi c'è una parte proprio funzionale e quindi legata all'utilizzo di macchine, che possono essere una radiofrequenza, carbossiterapia, l'utilizzo di filler locali che attirano acqua e quindi, diciamo, possono ridurre questo disturbo, alla ginecologia proprio estetica, estetica come nella parola stessa, diciamo, che può essere lo sbiancamento dei genitali o rimpolpamento dei genitali o anche la riduzione delle piccole labbra, che è un intervento che ogni tanto si esegue. Diciamo che la nostra è una zona dove la ginecologia estetica è all'inizio, diciamo, nelle città più grandi, diciamo, però anche sulla parte chirurgica, la riduzione della labioplastica, la riduzione delle piccole labbra, insomma, insomma, se ne effettuano diverse. Si comincia a vedere, d'altronde, tutto parte sempre dalle grandi città, dalle... Passaparola, però insomma, è una branca molto interessante. Si, per esempio, negli Stati Uniti è molto sviluppata la chirurgia, la ginecologia estetica. Adesso ci sono anche proprio dei congressi di ginecologia estetica, fa parte sempre del mondo della medicina estetica, però in ogni congresso italiano, nei vari congressi della medicina estetica c'è anche la parte di ginecologia estetica, che comunque offre parecchie armi per le donne, diciamo, e che magari la donna non ci pensa, non lo sa. Si, si, non ci si pensa, magari. Diceva prima che, appunto, dicevamo prima, anzi, che l'età della menopausa tende ad allungarsi nel senso che si tenta di combattere sempre di più i sintomi. Sicuramente l'attività fisica è importante, dottore. E' importantissima, è importantissima perché comunque, a parte il fisico e quindi l'ostoporosi, ma anche a livello psicologico, diciamo, l'attività fisica dà svago, libera qualche volta la mente e purtroppo la menopausa ha tutto un suo lato psicologico importante, perché comunque c'è un abbassamento dell'umore, c'è una… c'è le donne in menopausa, alcune lo soffrono tantissimo, perché poi comunque coincide con un periodo della vita dove i figli crescono, possono dare dei problemi e quindi l'attività fisica si consiglia sempre, dopo il tempo è tiranno e quindi poi qualche volta, diciamo, le donne fanno difficoltà. Però d'altronde se trova tempo lei per giocare a padre, il dottore lo possono trovare anche le donne. Esatto, magari gli spreco il tempo, no, lo trovo. Però è l'unico… ormai è una delle poche valvole di sfoghe, quindi… Beh, però è uno sport, ne abbiamo avuto modo di parlare anche in altre occasioni, socializzante, uno sport che apre, è molto alla portata di tutti. Dove ci sono sempre più donne poi in realtà e quindi sì, però secondo me rispetto al tennis è uno sport dove ci si avvicina molto più facilmente, anche per una donna che non ha giocato a tennis, secondo me è uno sport utile. Uno sport utile perché poi appunto una racchetta in mano più o meno si è sempre tenuta, ecco che si trasferisce in un campo dove si gioca con altri sicuramente è molto vantaggio, è molto divertente anche. Dottore, grazie. Grazie a voi. Anche questa sera è stato davvero molto molto interessante parlare con lei, la ringraziamo a nome dei nostri telespettatori, delle telespettatrici che ci seguono numerosi perché sanno che con questo format si riesce davvero a saperne di più, a chiacchierare, a saperne di più. Dottore, grazie. Grazie a voi. Vi ringraziamo anche a voi per essere stati con noi anche questo lunedì, l'appuntamento è fra una settimana, continuate a restare su Rossini TV. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.